Allora, buongiorno a tutti, io sono Andrea Tarabbia, in questi giorni resto a casa ma lo faccio col Campiello, resto a casa col Campiello e gli amici della fondazione Il Campiello mi hanno chiesto di raccontare, insomma in un breve video, un libro che sto leggendo e ho deciso di parlare di questo Encyclopedia dei Morti di Danilo Kish, che è un libro in realtà che io ho letto varie volte è uno di quei libri su cui periodicamente torno perché è uno dei miei testi di riferimento in qualche modo e lo sto riguardando proprio in questi giorni. Danilo Kish è uno scrittore nato in Serbia, è morto a Parigi nel 1989 è stato uno dei più grandi scrittori europei della seconda metà del Novecento e Encyclopedia dei Morti è uno dei suoi libri migliori e è una raccolta di racconti il racconto principale è quello che dà il titolo al volume, racconta di una ragazza, di una ricercatrice che si reca a Stoccolma per studiare, fare ricerche in un archivio molto particolare un archivio sterminato in cui ci sono le schede biografiche di tutti gli esseri umani che non sono mai stati in un'altra enciclopedia cioè è la grande enciclopedia, la grande storia dell'uomo fatta attraverso le vite delle persone comuni, quelle che non finiscono nei libri di storia lei cerca delle notizie su suo padre che è scomparso recentemente e in realtà tutto l'Encyclopedia dei Morti, tutta la raccolta di racconti è fatta di storie apocrife, di reinvenzioni, di vecchie leggende o di passi addirittura biblici che Danilo Kish riscrive, rimastica, rifà vi leggo le tre righe finali di uno dei miei racconti preferiti si chiama Glorioso morire per la patria il racconto è una leggenda in realtà novecentesca relativa a una delle famiglie ungheresi più in vista sono gli Esterasi e finisce così a una piccola lezione di scrittura e di lettura i vincitori scrivono la storia il popolo tesse la tradizione gli scrittori fantasticano certa è solo la morte Danilo Kish, Enciclopedia dei Morti io resto a casa col campiello buona quarantena e arrivederci a tutti